C'è un'altra storia che si raccontava a Firenze, è famosa, quanti forse la conosceranno, di questi due contadini che andavano un giorno dai dottori perché la moglie stava male, c'aveva dei problemi, va bene? Si che andarono dai dottori, avanti venite, entrate, entrate, questi due vecchiucci in salone dentro, mi fa, sa dottore, la mia moglie ha un po' di problemi, dice c'ha un dolore qua dietro, in fondo alla schiena, dice guardi non si preoccupi, non è la figlia, 5 di queste le supposte, non si preoccupi, dopo le è passato tutto, va bene, va bene, grazie, grazie, chi è? Stanno fuori, dice le supposte, chi sono le supposte? Dice ma io non so, perché tu lo sai, non so nulla, ma dove hanno messo le supposte, ma tu lo sai, io non lo so, ven via, va lì dentro a chiedere, dove hanno messo le supposte, no, io mi vergogno, io ci voglio, andate dentro a chiedere, perché figlia di merda fa, no, via, no, ven via, va dentro, su, si chiede, bussa, avanti, dice dottore mi scusi, guardi, ma non ho capito, dove sai dai metter dai moglie le supposte, se le mette nel lano, ah va bene, grazie, 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 ha detto che tu te le hai metter nel lano, il lano, dice che l'è il lano, ma io, io non so, che l'è il lano, ma che l'è lano, non lo so, ven via, vai lì a chiedere, che l'è, no, io basta, non ci torno, vergogno, no, via, no, basta, eh, ven via, vai lì a chiedere, dove me le metto, se no ho questa supposte, va bene, si chiede, entra dentro, bussa, avanti, dice guardi, senta, mi scusi, non ho capito, ma dove le persone le mette dai moglie le supposte, nel sedere, ah va bene, grazie, ha detto che te devi mettergli il sedere, il sedere, ma che l'ha il sedere, come so, che l'ha il sedere, ma come, ven via, vai lì dentro a chiedere, no, basta, io un po', alla fine mi andrà a fanculo, davvero, eh, alla fine mi andrà a fanculo, no, dai, ven via, vai lì dentro a chiedere, ti prego, ti chiede, bussa, pronto, dottore, avanti, ti senta, ma non ho capito bene, dove sarebbe, nel culo sarebbe a mettere, hai visto, sei incazzato e non ce l'ha voluto dire, ma poverino, non era mia colpa loro, insomma, erano contadini dalla campagna, venivano in città, poi io vengo alla campagna, frisco bene, voglio dire no, insomma, insomma, è così.